Corrado Tarantino, segretario provinciale del PD, si candida a sindaco di Carovigno. L'annuncio è arrivato su Facebook, sul profilo di Corrado Tarantino, nel quale si legge L'assemblea del PD di Carovigno mi ha chiesto di candidarmi sindaco del mio comune. È una di quelle decisioni che ti fanno tremare i polsi, scrive Tarantino, che non si possono prendere a cuor leggero perché candidarsi a fare il sindaco della propria città è una cosa seria, non è un gioco. Soprattutto in una realtà come la nostra, in cui la mala politica è diventata la prassi e non l'eccezione, e in cui la differenza tra interesse privato e interesse pubblico è stata spazzata via. Allora mi sono chiesto, continua Tarantino, c'è ancora spazio per la speranza in questa città? È possibile una rivoluzione culturale, etica, sociale, che parta dalla buona gestione della cosa pubblica e che coinvolga da subito movimenti, associazioni, singoli cittadini che molto semplicemente hanno il sogno di vivere, di far crescere ai propri figli in una città più giusta, che sia di tutti e non di pochi? Io penso di sì. Insomma Tarantino dovrà essere l'avversario del candidato della PDL, di cui ancora non si conosce ufficialmente il nome, che prenderà il posto di Vittorio Azizza, sindaco uscente della città dell'Anzegna, eletto senatore. Al momento però l'unico candidato ufficiale con cui Tarantino dovrà vedersela è l'ex Udc Mimmo Mele, candidato con quattro liste civiche ma anche con l'apporto di Fratelli d'Italia, movimento in cui è confluito l'amico ed ex azzurro Angelo Lanzillotti.